perché adesso daremo spazio a quello effettuato per la Royal Enfield Classic 500 grazie alla collaborazione del dealer Topoboto concessionario Royal Enfield, Vermoto, Benelli, Dailim, anche Suzuki insomma Kiway, tanti marchi con il nostro amico Francesco Ristazio che troverete a Corso Vettore Emanuele a Napoli Classic 500, una moto molto godibile con l'Aero 4 si è molto perfezionata devo dire ci siamo divertiti ad andare in giro per la nostra città per la nostra bellissima Napoli e queste sono le considerazioni che abbiamo fatto su questa moto molto 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 elegante muoversi in moto ormai si sa è diventato anche tendenza e gli stili e le tipologie di utenza sono diversi il più classico ed elegante resta quello vintage e in questo Royal Enfield è forse il brand più accattivante grazie alla sua esclusiva proposta di gamma dopo aver provato a lungo la Continental GT unica cafe racer in dote alla Royal Enfield saliamo a bordo della Classic Chrome 500 grazie al dealer di Napoli Topomoto che ha sede al Corso Vettore Emanuele 177 questo store oltre alle proposte di brand di alta gamma si sta specializzando nello stile classico e retro rappresentando marchi importanti di questo segmento e offrendo per ogni esigenza di cilindrata la risposta giusta la Royal Enfield Classic Chrome si colloca al vertice tra queste offerte grazie al suo design da moto dell'epoca post bellica quando per molti spostarsi sulle due ruote era l'unico mezzo possibile tra le strade distrutte dai borbandamenti proprio dall'Inghilterra arrivava questo stile unico e innovativo per quel periodo che di lì a poco avrebbe contagiato tutti gli altri costruttori di moto il tutto arricchito da una scelta cromatica indovinata e brillante che su questo modello è disponibile in diversi colori anche dalle tinte matte l'utilizzo di materiali moderni ha fatto il resto grazie a questi si è potuto realizzare una moto con sovrastrutture metalliche lì dove la loro adozione rende la Classic davvero unica senza però rinunciare alla leggerezza e alla fluidità della moto apprezzabili soprattutto durante la guida oggi però è arrivata la normativa antinquinamento Euro 4 che impone livelli bassissimi di CO2 e altri accorgimenti tecnici senza i quali le moto non possono superare l'omologazione lo sforzo industriale è stato per tanti imponente e anche Royal Enfield non si è tirata indietro sviluppando i suoi motori semplici e affidabili per non rinunciare alla fetta di mercato del vecchio continente anche se questa rappresenta ormai un valore marginale per tutte queste case che vedono in Asia e nel Sud America i mercati più floridi quelli che non hanno ancora imposizioni così drastiche il monocilindrico da 499 cm3 della Royal Enfield Classic Chrome si avvale della doppia accensione e l'aero 4 non gli impore di raggiungere i 27 cavalli di potenza a 5200 giri minuto mentre la coppia si assesta sui 4,3 kg metro disponibili a 4000 giri il tutto per un peso complessivo di 195 kg in marcia la moto è sempre godibile e generosa ha un'erogazione lenta ma progressiva e morbida che agevola la guida in città quando il traffico diventa intenso ha una posizione di guida perfetta con buona distanza tra manubrio, corpo e pedane e i cerchi da 19 e 18 pollici percorrono le strade urbane con estrema fluidità assorbendo grazie a sospensioni opportunamente settate tutte le aspirità si ha sempre il totale controllo della moto grazie anche al suo baricentro non molto alto e fermarsi all'improvviso non mette in crisi grazie all'immediato raggiungimento del suolo con i piedi ma ciò che è più gratificante è la sensazione che si prova di guidare una moto dal fascino indefinibile il carattere della classe Chrome coinvolge chiunque ne sia la guida ma anche chi si trova ad incrociare lo sguardo e resta incuriosito ad ammirare una moto che a prima vista sembra d'epoca ma che invece nasconde tutte le prerogative e i vantaggi di una moto costruita oggi il prezzo della classic Chrome è di 5.690 euro ma la gamma Royal Enfield propone soluzioni che partono dai 4.990 euro tutte moto Euro 4 a fine test ritorniamo più che sorpresi e soddisfatti dagli amici dello Stur Topo Moto al corso Vittorio Emanuele che vi aspetta per provare le moto demo della gamma Royal Enfield e di tutti gli altri marchi rappresentati a presto a presto a presto